Anche se sono abbastanza vecchi Cioè nel senso io posso portare la storia a PAPERELLA DEI PAPERELLA DEI PAPERELLA DEI Sei l'uccello che vorrei PAPERELLA DEI PAPERELLA DEI Già TRIPA TRIPALOSCHI 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 ITALIANI 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 mozza napoli mozza napoli io immagino di quei soldati napoletani quando era la seconda per mondiale nel 1400 l'immagino così tipo un frate messa del cacciamento frate messa di giustamente cacciolato volo mai a libera attuando che picchetti intente intente però a posto di fare la tenta in tenta su una ora tipo forza napoli quando arrivavano in spagnoli sulle nostre costa c'era ma sanito ma salì un ugo ma in subito la franza sotto di te a 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 pochino si vede che sono napoletano allora sono contento di essere napoletano se non ci fosse copyright credo che questa sera il copyright può sparire dentro l'armonia del cuore quando vedo che i cantanti falliranno perché nessuno più comprerà i loro dischi dimmi chi adesso compra un cd questa volta non sa arrivo questo è fatto bene forse ecco una matata ragazzi un paracaduto sulle spalle e let's go un paracaduto sulle spalle e let's go ragazzi benvenuti in una nuova live oggi vedremo come conquistare il palazzo di fortnite ah non è fortnite è bellissimo la bandiera rimane fuori no è scomparsa ed è spawnata all'improvviso è uscito una sirena da lì non è non è